Guarda come sono bravi gli altri concorrenti! Dai Minnie, non sarai mica nervosa! Un pochino, perché si vede? Ma no, andrei bellissimo! Avanti! Oh, c'è Paperino! Dai Paperino! Sfrigati, la gara è genizzata! A quanto pare mette qualcosa di grosso per il suo numero! Sta' attento! Mettilo là! Minnie! Che te ne pare? L'ho cucita da sola! Oh, Paperino! È perfetto! Beh, spezzate una gamba! È un cerco teatrale! Buona fortuna! Anche a te, Paperino! È così ora!